Buongiorno da Sandro, 20 agosto 2022, ciao a tutti amici di Youtube. Mi ritrovo ancora dopo tre settimane in questo splendido posto della Val Poschiavo. Sono nella frazione Leprese, comune di Poschiavo. Qui vedete la ferrovia che parte da Tirano e prosegue in questa direzione verso l'ospizio Bernina, Pontresina e St. Moritz. Questo è il piccolo paese di Leprese. Questa è la visione naturalistica che c'è davanti a me. In fondo vediamo il campanile della chiesa e questa è la fermata della stazione di Leprese della ferrovia retica. Qui giriamo, vi faccio vedere la bacheca dell'hotel-ristorante Leprese, un quattro stelle, un albergo di gran lusso. Questo è il parcheggio che ci porta in direzione del lago di Poschiavo. Un bellissimo posto che vi consiglio di visitare. Ciao a tutti da questo YouTube di Sandro.